Il vento è di destra, non c'è dubbio. Nel centro-destra predomina il linguaggio salviniano, ormai ha predominato anche il ritorno di Berlusconi, alla fine il tema principale è l'agenda politica del centro-destra, la detta Matteo Salvini, anche nello stesso Partito Democratico è prevalso un orientamento più verso destra con le ultime posizioni del Ministro dell'Interno, nello stesso Movimento 5 Stelle è prevalso un orientamento più a destra, basta vedere le posizioni di Di Maio sullo Ius Soli e del Movimento e anche sulle vicende di Macerata, quindi su questo mi pare che il vento sia sicuramente in quella direzione, per non parlare anche dell'irruzione nella campagna elettorale di forze come Casa Pound e Forza Nuova che si ispirano in modo assolutamente esplicito all'ideologia nazifascista, quindi questo mi pare assolutamente chiaro che lo scenario è questo, quindi non è improbabile che dopo il 4 marzo ci sia un governo sicuramente più orientato verso destra, la cosa che appare più probabile da quello che si legge e si ascolta è un governo delle larghe intese, un governo del Presidente, un governo dove dentro ci sono non dico tutti ma un po' tutti, dicono che faranno solo la legge elettorale, ma in realtà ci sono poltrone che scottano che sono quelle là, che stanno alla mia sinistra, sono poltrone impegnative dei sindaci e sono poltrone che poi difficilmente lasci, io non credo al fatto che si vada a rivotare dopo 8 mesi, dopo 9 mesi, dopo 12 mesi o dopo un anno, quindi ci sarà un governo che durerà.